A nome di Don Bosco, qui presente, io vi dico quello che lui vi direbbe e lui vi darebbe cinque parole ordine, cinque grandi consegne per la vostra vita, carissimi giovani. E la prima, cari giovani, la vostra giovinezza è un grandissimo dono, non potete esprecarlo, dovete fare della vostra giovinezza il momento dei grandi sogni, dovete sognare in grande e seguire con gioia, con decisione e convinzione, i vostri sogni. Prima consegna, la vostra giovinezza è un grandissimo dono, il tempo dei grandi sogni. Seconda parola ordine. Cari giovani, i tempi presenti sono difficili, portano allo scoraggiamento. Io vi dico, non stare a lamentarvi, non lamentatevi di tutto quanto c'è di male, di quanto c'è di brutto, di quanto c'è di falso nella società. Vi invito, come Don Bosco, a scoprire tutto quanto c'è di buono, di bello, di vero, in voi stessi, nella vostra Chiesa, nella vostra società, nel vostro mondo. E mettete in gioco la vostra vita per trasformare il mondo. La trasformazione del mondo entra attraverso la finestra dei giovani. Voi rappresentate questa energia capace di trasformarlo. Seconda parola d'ordine. Non stare a lamentarvi, ma mettete in gioco la vostra vita. Terza parola d'ordine. Cari giovani, camminate su questa vita lasciando dietro di voi orme affinché altri le possano seguire. Tutte le persone camminano sulle vie del mondo. Sono poche le persone capaci di lasciare orme dietro di loro. Io vi dico, camminate lasciando dietro di voi orme che altri possano seguire. E questo vuol dire che siete chiamati a fare cose grandi. Quindi, non lasciatevi dunque sedurre dalla mediocrità. Proprio in questo cortile ha vissuto un gigante della santità, Domenico Savio. Ma come lui, tanti altri ragazzi vuol dire che siete capaci di cose grandi. Camminate dunque sulle strade della vita lasciando orme da seguire. Quarta parola d'ordine. Cari giovani, non dimenticate che la vita è un dono, è un dono di Dio e che va vissuta donandola a Lui e agli altri. E donando la vita che la vita cresce, è donando la vita che la vita si sviluppa, è donando la vita che la vita si rende feconda, è donando la vita che il frutto perdura per sempre, rimane per sempre. Date a Dio una opportunità, anche dal punto di vista vocazionale, la vita è un dono e va vissuta donandola a Dio e agli altri. E finalmente, quinta parola d'ordine. Cari giovani, nessuno vi ha amato come Cristo. Perché nessuno, tranne Lui, ha già dato la vita per ciascuno di voi. E alla fine, l'unico che vi risorgerà dalla morte sarà Lui. Cari giovani, vale la pena amare Cristo. Vale la vita seguire Cristo. Cristo vale tutta la vita. Consegnatela. Non indugiate nella vostra totale consegna a Dio. Cinque parole d'ordine per i cari giovani che spero non dimenticherete. Vi voglio bene. Vi voglio buoni. A colui che più voglio, che più amo, lo porto nel cuore. Nel cuore porto ciascuno di voi. Buonanotte. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.